Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo vlog. In questo nuovo vlog volevo dirvi di un nuovo gioco che inizierò a registrare sul canale. L'hanno registrato anche già The Troller e Peppe Cash. Questo gioco è The Iger Lover Game. Questo gioco, credo che in Italia, ha portato per primo Favij. Consiste in cercare, cioè non cercare, indovinare se è più alto o più basso una cosa cercata su internet. E quindi è un gioco in cui credo che The Troller, se andate a vedere il video, ha fatto il record italiano di 37. Peppe Cash ha provato a batterlo e naturalmente proverò anch'io a batterlo, questo record di 37. Quindi se è piaciuto questo nuovo vlog iscrivetevi e lasciate un like. Ci vediamo, ciao a tutti!